E bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Samuel Lebon, in questo nuovo video pazzesco Vi invito subito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale perché oggi parliamo dei primi passi da fare nella web app Se volete fare i crediti importanti, iniziare bene Allora, prima di tutto vi invito anche a, se volete, iscrivervi al mio Patreon per entrare nel gruppo Discord Gruppo compravendita, prezzo secondo me molto molto economico, visto che comunque ci sono gruppi compravendita da 10 15 euro a volte anche 20, quindi mi raccomando, se volete entrare, gruppo compravendita, consigli giornalieri, guide, eccetera, eccetera Quindi mi raccomando, se volete, link in bio Allora, oggi ragazzi, sto facendo il video il giorno prima, dovrebbe uscire il 21 la web app di FIFA 23 Come tutti gli anni, quando uscirà la web app, vi dico subito che ci saranno dei problemi Crasherà perché ci sarà troppa gente che si connetterà, eccetera, eccetera Quindi il primo giorno, il 21, credo che sarà un po' difficile fare dei crediti Magari più i giorni dopo Comunque dal 21, che è mercoledì, il gioco dovrebbe uscire appunto il 27, quindi 6 giorni dopo Vediamo, 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 vediamo nel senso che non sarà, non è facile fare tanti crediti in questi primi giorni Solo con la web app, è molto difficile, non c'è neanche il gioco in anteprima, come gli anni passati Che c'era il gioco in early access per chi aveva le 10, insomma faceva le 10 ore Quindi diciamo che ci sarà anche poca gente che spaccheterà, eccetera, eccetera Quindi non sarà facile fare i crediti Ma vi do, diciamo, dei passaggi base da fare nella web app Subito, proprio all'inizio Allora, il primo step, ragazzi, appena entrate alla web app Vi farà scegliere appunto delle nazionali, teoricamente Ovviamente io parlo teoricamente perché magari quest'anno è cambiato Ma teoricamente è sempre così Vi farà scegliere delle nazionali Voi ragazzi dovete scegliere nazionali utili per completare le SBC Quelle base o anche quelle avanzate E i giocatori da SBC sono normalmente quelli con le nazionali più importanti Quindi magari ad esempio Brasile, Argentina, Argentina ad esempio Anche Francia Volendo anche Spagna, comunque Andate, scom'è, più per Francia O anche Brasile, Argentina, comunque sono molto buone Cercate di scegliere queste perché magari vi butta fuori dei giocatori appunto di quella nazionalità Molto utili per fare le SBC E soprattutto ragazzi questi giocatori che vi daranno scambiabili dovete assolutamente utilizzarli Nelle SBC base o anche se riuscite quelle avanzate Perché comunque vi darà dei pacchetti scambiabili E poi queste carte qua andranno vendute Tutte ragazzi perché secondo step appunto riceverete anche il pacchetto di benvenuto Che dipende, dipende comunque, è di un valore veramente basso Però tutto quello che trovate dovete vendere Cioè anche magari il pallone, vendetelo, lo stadio, vendetelo Piuttosto che scartarlo, ottenendo le club Vendetelo Perché comunque sia tutti i crediti che riuscite a fare Anche 100, anche 50 crediti in più Sono utili all'inizio della web app Per trovarvi magari già a inizio game con l'ultime team Il 27 o il 31, il 30 quando inizierà per tutti Vi troverete il gioco già con un buon punto in ultime team Quindi mi raccomando fate questa cosa Un altro consiglio ovviamente è anche di mettere tutto in vendita Cioè ad esempio voi avete dei consumabili Qualsiasi cosa Mettete in vendita ragazzi perché tanto Non serve a nulla in questo momento Queste carte qua non servono a nulla Se non farvi guadagnare dei crediti per poi Rinvestirli e fare compravendita Quindi vendete tutto Ripeto, tutto Anche magliette, stadi Tutto quello che trovate lo vendete Tutto quello che è scambiabile ovviamente Ah un'altra cosa ragazzi Ovviamente controllate sempre i prezzi Cioè ad esempio se trovate una maglietta Del PSG non vendetela a prezzo così a cavolo Controllate perché potrebbe valere molto Quindi controllate sempre le vostre carte Fate sempre un confronto a prezzo Non vi demoralizzate se vedete Ho guadagnato solo in un'ora Ho guadagnato mille crediti E vabbè ragazzi Mille crediti sono molto importanti In questo inizio di Ricordiamoci c'è solo la web app in questo momento Quindi guadagnare già dei crediti da solo la web app È assurdo È assurdo Fidatevi Una volta che insomma Avete iniziato Siete entrati e tutto quanto Ci sono già Teoricamente ci sono già le SBC disponibili Soprattutto ci sono le SBC Quelle base Che vi danno comunque dei pacchetti Non eccezionali ragazzi Però vi danno dei pacchetti Tutti scambiabili Teoricamente Pacchetti scambiabili Che poi voi andrete a vendere Quindi dovete assolutamente vendere Questi pacchetti scambiabili I giocatori che trovate Nei pacchetti scambiabili E utilizzare i non scambiabili Per appunto Farmare questi pacchetti Cercate di completare tutte le SBC base Poi se riuscite ad andare anche un po' avanti Con le avanzate Non è un po' difficile però Quelli base Intendo il puzzle base Insomma L'SBC Quelle proprio base Che trovate a inizio game Ripeto appunto Non scartate i giocatori Ovviamente I giocatori Teoricamente Si vendono molto più facilmente Se gli stadi Eccetera eccetera I consumabili O appunto I oggetti stadi O oggetti Eccetera eccetera Sono un po' più complicati Immagino Però Se Non riuscite a vendere Voi realistateli Ogni ora Cercate di realistarle Magari Negli orari Dove c'è più Casino Quindi magari ad esempio Dal pomeriggio Alla sera Eccetera eccetera Queste sono le cose Da fare Ovviamente Ragazzi Dovete sapere Che non è Le prime giornate Ripeto Non si guadagnano Tanti crediti Però Già Fare Che ne so 5k È tantissimo All'inizio Fidatevi È tantissimo Magari in una giornata Fate 5k È tantissimo Perché Non ci sono tante carte Sul mercato Le poche carte Che ci sono Comunque valgono Tanto Quindi È anche difficile Fare compravendita Non è facile Poi quest'anno Col fatto che ci sono I mercati uniti Con l'isbox Eccetera eccetera Bisogna anche vedere Il mercato Come sarà Magari sarà pieno Di giocatori Una cosa che vi consiglio È sempre Di guardare Nazionalità Importanti Poi quello Magari farò Altri video Oppure Comunque Entrate nel mio Gruppo Patreon Nazionalità Importanti Quindi Magari Ad esempio Queste carte Qua potrebbero valere Tanto Adesso Non ci sono Tutti i giocatori Comunque Quando uscirà Il web app Ci saranno Tutti Anche Nazionali Ad esempio Francia Sono molto Importanti Queste carte Valgono Tanto All'inizio Ragazzi Per l'SBC Per tante cose Sono Veramente Carte Importanti Quindi Assolutamente Non fate Cavolate Non Fate Cavolate Non Scartate Queste carte Non Scartate Mettetele in vendita Guadagnateci Perché sono Importanti Vendete tutto Non dite Ah ma lo tengo Per Perché lo utilizzerò In game No ragazzi Perché tanto Quando uscirà Il gioco Tutte queste carte Caleranno di prezzo Per forza di cose Perché la gente Comincierà a spacchettare Sia i pacchetti Che vi regano Sia i pacchetti Che comunque Magari La gente compra E noi dobbiamo Entrare E sfruttare Questa cosa qua E guadagnare Da quelle carte Quindi mi raccomando Se volete iniziare Bene La web app Seguite questi Questi standard Che poi sono sempre Gli stessi standard Tutti gli anni Però mi raccomando Se seguiti Al meglio Possono Migliorarvi Il foot Fin dall'inizio E niente ragazzi Io invito A lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Mi raccomando Di la vostra Ci vediamo Alla prossima Ciao